Buongiorno a tutti ragazzi, scusate il ritardo sul video. Questo video è il video di risposta al mio video dove domandavo il perché l'aggressore sceglie un'arma o il predatore sceglie un'arma. Tantissimi di voi avete risposto in una maniera veramente intelligente. Sono contento perché ho ricevuto risposte non solo sotto al video di YouTube ma anche sotto al video che ho pubblicato su Instagram. Veramente è stato bello vedere il coinvolgimento di tantissime persone alla materia e questo mi dà un'enorme soddisfazione. Allora, torniamo proprio al tema. Chiaramente ho visto certe persone che hanno risposto l'aggressore sceglie un'arma perché ha un vantaggio e va bene. L'aggressore sceglie un'arma perché può incutere più timore, va bene. L'aggressore sceglie un'arma perché la preda al discorso dell'arma si mobilizza eccetera eccetera eccetera. Allora, va benissimo e un'analisi perfetta da parte di tutti quanti. Però, adesso vi dico la mia opinione. Allora, intanto l'aggressore sceglie un'arma che sia coltello o pistola perché psicologicamente è debole. Cosa voglio dire con questo? Sceglie un'arma perché in realtà non si sente così sicuro di affrontare una vittima o una preda a mani nude. Ok? Perciò scegli un'arma. E proprio questa sua debolezza, scegliendo l'arma, è qui un punto di riflessione che voglio farvi capire. Allora, voi immaginate che se l'aggressore sceglie un coltello, adesso immaginiamo un coltello, sceglie un coltello e per fare determinati reati deve agire sotto due forme. Allora, essendo comunque insicuro di quello che fa e affida a se stesso all'arma che ha scelto, chiaramente da lì nasce la situazione dell'agguato, ok? O del modus operandi quotidiano, come ho sempre detto in alcuni dei miei video, se vedete qualche video fa, dove si vede l'aggressore che chiede informazioni, fa finta di essere gentile, un linguaggio diciamo buono, per avvicinarsi alla vittima. Questo perché, sempre partendo dall'origine che psicologicamente è debole, sceglie l'arma, perciò non vuole rischi, perciò ha scelto l'arma, cerca l'agguato, ma la scelta dell'arma, proprio perché psicologicamente è debole, da qui nasce quella che ho, diciamo, illustrato in qualche mio video ancora precedente, soltanto nascondere l'arma addosso, mettiamo il caso in una cinta o davanti, dietro, da lì che nasce proprio da questa sua insicurezza il modificare, ok? La sua postura di camminata, vedete, da un principio si va ad aprire, diciamo, una scatola immensa. Allora, perché? Punto primo, l'arma che vado a scegliere, se è il coltello, a me, essendo insicuro, avendo scelto l'arma, serve l'agguato e serve la mia arma immediatamente pronta all'uso, ok? Perciò, mettiamo il caso, ce l'ho alla cinta al lato destro, come vedete, il braccio destro non ciondola nel camminare e il braccio sinistro sì, perciò già è un primo, diciamo, approccio alle tecniche di osservazione che potrebbe essere armato di coltello, perciò già captando questa informazione a due, tre metri da me, già riesco a capire cosa potrebbe succedere. E, essendo, avendo questa debolezza, perciò scegliendo il coltello, ok, cercherò, come ho detto prima, un approccio un po' più confidenziale, ok? E vedrete che nascono quelle situazioni sempre sulle tecniche di osservazione, il braccio sinistro un po' più avanti parlando, mettendo il sinistro avanti, nascondendo la destra, questo proprio perché, se psicologicamente sono debole, la mia arma la voglio toccare, la voglio sentire, ecco perché nel camminare il braccio sinistro, magari c'è il conto del braccio destro, no, ok? Ho il suo atteggiamento che, se mi concentro, riesco a vedere che ha una parte del corpo dove ho sempre contatto col braccio, proprio perché, essendo una psicologia debole, ho scelto l'arma e non voglio perderla per nessun motivo, ok? Perciò mi assicuro l'arma e faccio l'atteggiamento confidenziale per cercare di prendere la preta in una maniera più comoda possibile. E anche da qua, da qui, che parte la mia critica, sui corsi fake, ma se l'aggressore sceglie un'arma, che potrebbe essere un coltello o l'arma da fuoco, ok? Nelle minacce, no? Facciamo un esempio, le minacce, ti appoggia al collo, ti appoggia dietro. Perché quando la vittima fa le tecnichine l'aggressore dovrebbe rimanere in quella posizione e farsi fare la tecnichina e non creare una reazione quando partiamo dal presupposto che scelgo l'arma perché psicologicamente sono debole e affido tutto me stesso all'arma? Perché? E da qui che poi, ecco perché vi dico, si apre una scatola immensa, si capiscono tanti meccanismi. Ecco perché sono tutte stronzate quelle situazioni che fanno vedere dove la lama al collo, alza le mani, lui fa la tecnichina e l'aggressore rimane col braccio così. Perché se ripenso a questo principio che non voglio perdere l'arma, immaginate, c'è minimo una colluttazione, uguale con l'arma da fuoco. Ancora si vedono queste cazzate, con la punta che si punta l'arma in testa, tu toglie l'arma e quello non ha reazioni. Ma se anche l'arma da fuoco lo scelda perché psicologicamente sono debole, affido tutto me stesso a quello, perché non devo perlomeno ritraire il braccio? Ok? Perciò, ragazzi, chiudo col dire. Avete analizzato benissimo tutto, vi ringrazio. Faremo una serie di video con domande e risposte, perché questo non è per mettere un video dove voi dite la vostra, è arrivato il guru o l'icona, no, non è così. È solo per condividere le idee, perché magari posso prendere anch'io tanti spunti da voi, tanti cervelli insieme, è molto importante tenerli. Però, alla domanda, oggi ho dato la mia opinione, non la risposta assoluta, perché la verità non ce l'ha nessuno. Questa è una risposta attraverso le mie esperienze, i miei studi e le mie situazioni. Vi ringrazio, il prossimo video metteremo un altro argomento e analizzeremo sempre tutti insieme. Vi ringrazio tanto. Perciò, alla risposta all'aggressore perché sceglie un'arma, sono giusti tutti i vostri perché e le risposte, vi aggiungo dicendo questo concetto. Sceglie l'arma perché psicologicamente è debole, però attenzione perché affida tutto se stesso all'arma che ha scelto fino a modificare la camminata e tutto il resto che ho detto prima. Ok? Perciò, grazie, grazie perché mi avete intasato. WhatsApp, grazie. Oltre c'è chi mi segue su Instagram, che lo sto capendo adesso io Instagram, perché veramente, ragazzi, sono un po' una zappa a tutte queste cose multimediali. Però, infatti, come vedete, sto in cucina a casa mia e faccio il video. Io sono così, non ho tagli, sigle, musiche. Perciò, grazie a tutti, grazie e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, ragazzi.